Subito dopo Leopardi compone i due canti che forse sono tra i più noti anche nella cultura scolastica italiana, sono molto letti nelle scuole, che sono La quiete dopo la tempesta e Il sabato del villaggio. Sono canti molto amati perché recuperano un'atmosfera idilliaca, paesaggi di campagna o di villaggi in cui operano persone semplici. Abbiamo artigiani, contadini, tutte le piccole figure che vivono nel villaggio e questo è un aspetto della poesia leopardiana molto bello perché ci dice della sua attenzione alla vita semplice, alla vita quotidiana. Non sono dei veri e propri idilli, nel senso che questa dimensione è attraversata dalla consapevolezza della fine. L'uomo è un essere di passaggio che è destinato a finire, a morire e quindi la vita comunitaria può solamente attenuare questa dimensione esistenziale che è profondamente dolorosa.